Musica 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 I non solo apprezzo e apprezzo l'effetto, l'effetto l'effetto, l'effetto l'effetto che viene dall'organizzazione AIFA in diversi paesi. In fact, I'm almost like an ambassador of AIFA perché, come ho detto, I work in the West, and I work across the continents, and I see that how AIFA is spreading the Indian cinema to different destinations. First of all, New York is a city in the world, and if you ask any of the youngsters anywhere in the world where they would want to go, they would say they want to go to New York. So, New York is the city, and I think it's a major, major coup what AIFA has done is to host AIFA in where, you know, in New York. So, my involvement, as always, you know, I'm like family for where AIFA is concerned. I've been involved with AIFA, associated with AIFA since, I don't know, how many years, I can't even remember how many years from the time I think AIFA started. Look, in New York, obviously, there will be more expectations, more effort, and the show will be very big, and as usual, you know, the AIFA, it's always a spectacle, it's the scale, the mounting, the direction, the, you know, everything, you know, the star cast, the people, the, you know, it's like a, you know, it's like going for battle, there are so many people who go, you know, hundreds of us from the film fraternity goes, go to a different city, different country, and we celebrate Indian film industry, Indian films, and that's what we're going to do, and of course, this time I think there are majors, you know, members of our fraternity, senior, juniors, youngsters, you know, all of it, it's going to be a great mix. We all have a great mix. e che sono sempre più importanti e che sono ancora più importanti. e tutti i nostri amici. Ogni department di Nierja è davvero eccellente. Ogni actor in Nierja è davvero fabuloso. E ovviamente Nierja è stato Sonam, e Sonam è stato Nierja. Quindi sono molto felice che lei ha vinto questo Natale Award. E molto felice che il film ha vinto il migliore. E questo è un momento che quando sei il tuo bambino, lei può essere associato con il film che è il bambino. Ma non so ne è che Nierja è il bambino, ma che è un'evolto. E' un grande onore. E sono guardato il evento per 3 di maio, dove lei sta a fare la nota e ricevrere il presidente di questo Paese. Autore dei sorrisi